Bella a tutti raga, io sono Diego Dabber21 e in questo nuovo video interpreto ancora il pregione RJ dal film Dreamworks del 2006, La Candle Bosco, nella scena iniziale con il distributore automatico per intenderci. Del video, come sempre, non copyright infringement intendi, possiede solamente la voce, vero che siamo chiari su questo? Molto bene, se il video vi piace, iscrivetevi al canale, non perdetevi le mie ultime attività di doppiaggio. Un ciri bel ciao a tutti i fan del doppiaggio, da Zico Dabber21, da Bistrovo del mio motto, buona visione a tutti, spero che il video vi piaccia, si va a incominciare. E qui, per chi volesse seguirmi anche su Instagram, c'è il mio profilo, e ora si ricominci. No! Cati! Su, bello! Prendilo! Dammi! Come? Prendilo! E questo era il mio doppiaggio del porcione RJ Dal film di animazione Dream Wars del 2006 La Gen del Bosco Spero che il video vi sia piaciuto Un ciribiri ciao a tutti i fan del doppiaggio Ho stati votato per 21 Da Best of World di Miemotto E... Ci vediamo presto con tanti nuovi video Di doppiaggio, di intervista o di classifica A presto! Anche a voi è mai capitata una situazione Simile a quella di RJ in questa scena? Ovvero che cercavate di prendere qualcosa Al distributore automatico E questo a un certo punto si bloccava E voi rimanevate lì con la bocca asciutta? Perché a me qualche volta è successo Perciò capisco perfettamente Che nervoso deve aver provato RJ in questa scena Che poi della serie Oltre al danno alla beffa Dopo che RJ si indebita con Vincent Le patatine cosa fanno? Cadono! Sapete no chi è Vincent no? Quell'orso cattivissimo Con questa voce qua da... Da vostro Una sorta di Venom per Bug Comunque sia a presto con tanti nuovi video Buona estate a tutti E se andate al distributore Spero che non vi si blocchi il cibo Lasciandovi a bocca asciutta Questo è certo E ricordate una cosa importante 2 è make 1 1 2 2 3 3 6 8 8 8 9 10 10 11